La situazione è drammatica, perché non ci stanno pagando neanche la tredicesima e gli stipendi, non stanno neanche versando i contributi, neanche metà salute, questa è una situazione drammatica, o la risolvono in fretta, solo la politica la può risolvere, è anche muoversi, perché la regione Piemonte è quella che sta subendo.